Assolto con formula piena dalla Commissione di Appello della Corte di Lecce e da due capi di imputazione che nel gennaio del 2013 avevano portato al suo arresto. Lo scorso 11 marzo è finito un incubo per il quarantenne vigile urbano di Villa Castelli Fabio Zaccaria, padre di due figli, che da sempre ha programmato la sua innocenza ed estranità a quanto contestatoli dal pubblico ministero Casto che nel febbraio 2014 aveva ottenuto in primo grado dal Tribunale di Brindisi una sentenza di condanna per il vigile urbano a due anni di declusione per detenzione e ricettazione di munizioni clandestine. Ricorrendo in appello, gli avvocati del vigile Cosimo De Leonardis e Roberto Palmisano hanno dimostrato che i due caricatori che erano stati trovati dai carabinieri nel corso di una perquisizione a casa del quarantenne appartenevano alla sua pistola d'ordinanza, una beretta modello 81BB. L'accusa contestava a Zaccaria la mancata denuncia della possessione dei caricatori contestandogli il reato di detenzione illecita. In più, nell'occasione gli era stata contestata anche l'accusa di ricettazione di una parte di arma perché l'armiere di Francavilla Fontana, dove aveva dichiarato di essersi rifornito, riferì alle forze dell'ordine di non avergli venduto i caricatori. Nel febbraio del 2014 il vigile urbano era stato già assolto dall'accusa di possesso di due tesserini della polizia stradale considerati contraffatti poiché i distintivi appartenevano ad altri due vigili urbani di Villa Castelli. L'arresto di Fabio Zaccaria aveva portato la custodia cardenare in regime di domiciliari. Il 12 gennaio 2013, nonostante una prima scarcerazione accolta dal pubblico ministero, il Tribunale dell'esame aveva condiviso l'impostazione accusatoria ripristinando la misura detentiva. È stato nel secondo grado di giudizio che dopo varie udienze di spegno economico da parte della famiglia e dei genitori dell'accusato, un ottimo lavoro degli avvocati e la determinazione di Zaccaria, che addirittura il procuratore generale ha chiesto l'assoluzione per l'imputato. Ora il vigile urbano, che era stato anche sospeso dal servizio causa dei fatti contestatili, oltre a chiedere il reintegro presso il comando della Polizia Municipale di Villa Castelli, è deciso a ottenere un risarcimento di danni per ingiusta detenzione. Al collega non hanno mai fatto mancare la propria vicinanza i responsabili del sindacato delle polizie locali e i colleghi dei vari corpi di polizia che hanno esultato insieme al vigile alla sentenza della Corte di Appello di Lecce che lo ha dichiarato senza alcuna ombra di dubbio, innocente.